Ok, benvenuti e bentornati su Medioevo Militante, storie di Medioevo e Medioevi e Medievalismi dal V al XXI secolo. È un po' che manco, lo so perfettamente. Sono stato via, nel senso che ho avuto un sacco di lavoro da fare tra il vero e proprio lavoro e anche un progetto che mi sta coinvolgendo in questo periodo, che è incentrato sul notariato per mese nel Quattrocento. Questo progetto è la mia tesi di laurea magistrale, chi mi segue su Twitter ne avrà sicuramente già sentito parlare e oggi vorrei darvi una dimostrazione relativamente rapida, farvi vedere un pochino in che cosa consiste il lavoro che sto facendo adesso. In questo momento io sto catalogando una serie di documenti notarili che ho fotografato nei giorni scorsi. Catalogare vuol dire che io ho selezionato una serie di tipologie di documenti che sono ricorrenti, che sono queste. Non è un elenco che fa fede a un qualche tipo di teoria diplomatica, sono delle cose che mi sono sentito di fare io, quindi sono assolutamente da rivedere. Però abbiamo sicuramente una serie di documenti che possono essere utili anche senza bisogno di andare proprio a controllare i manuali di diplomatica. Ne riconosciamo proprio due o tre che sono quelli fondamentali. Ok, compravendita, ce ne sono tante, porca d***a se ce ne sono tante. Locazione, interessante, terreni in affitto, permute, testamenti. Convocazione, questo è molto interessante, sono dei gruppi di persone che vengono chiamati e devono sbrigare delle faccende, però prima vengono elencate e viene richiesta la loro presenza. Nomina di procuratori, nel senso che a un certo punto la gente decide che c'è bisogno di un procuratore, di solito sono 5 o 6, e li nomina. Pagamento, donazione, questo è un po' ambiguo perché ho messo tante cose nella donazione che in realtà non sono vere e proprie donazioni. Depositi, cessioni, doti, non sono tanti sicuro, di questo sono molto sicuro. Sentenza, accordo, tra virgolette, che chissà cos'è, chissà quando l'ho messo. Arbitraggio, anche questa è una cosa un po' particolare, invece questo è veramente figo. Società commerciale, cioè qualcuno che presta dei soldi a qualcun altro con l'esplicito intento di far fruttare questi soldi tramite il commercio. Una figata pazzesca, peccato che su 800 documenti ce ne sia solo uno. Molti documenti, non ho la minima idea di che cosa siano, devo studiarmi bene, cercare bene di scioglierli dal loro latino un po' astruse, dalla loro scrittura un po' problematica e capire bene cosa sono. In realtà questi sono stati i primi che ho elaborato e molti documenti che dopo sono riuscito a individuare, qui ancora non avevo capito che esistevano. In primis nomina di procuratore, non avevo la minima idea di che cosa siano. Ero fin convinto che fossero degli avvocati. Ciancio alle bande, ok? Ci sono un po' di notazioni qui particolari, se salteranno fuori ne parleremo, altrimenti ci mettiamo sotto e per mezz'oretta facciamo un po' di lavoro. Ok? Niente, partiamo, 1444-03-24, documento numero 875, andiamo con l'876, ok? Sono tutti in questa cartella, sono divisi per secondo notaio. Poi ne parleremo del secondo notaio, ok? Andiamo al 24 marzo. L'adattazione non rompetemi le scatole, ma deve essere fatta così, altrimenti non sono in ordine. Variazione D, vuol dire che ci sono tanti documenti della stessa data e vengono indicati da una lettera dell'alfabeto. Quindi passiamo al 1444 marzo 28, vediamo subito cos'è. Ok, è un bel documento, bello lungo. Ok, allora, Sapiente, Egregio, Possessore Domino Antonio de Cressara, Emanlio, Spettabili, Segreggi, Civitates, Pepe Nicolaus, Roncarati, Civissimi, Economi, qui assolutamente non si trova un'indicazione generale che mi permetta di capire che cosa è questo tipo di documento. Io sto cercando delle parole che sono le chiavi per andare a veramente capire la tipologia del documento, ma anche la struttura del documento non è assolutamente legata, ad esempio, a una compravendita. Questo qui direi che lo saltiamo, anche perché è una forma di scrittura che è un po' differente da quella che il mio notaio, che per inciso è Giovanni Palmia, ha. Una scrittura che lui utilizza appunto in questo periodo della sua vita, e non si capisce perché la deve cambiare, però fa lo stesso. 1444.03.28. Ah, e comunque non sarà tutto così. Apri ovviamente il link per consultarlo. Non sarà tutto così, nel senso che io adesso, se trovo qualcosa di interessante, ne parliamo. In alternativa, faccio un'accelerazione. Ok, ad esempio, questo documento datato 1444, in dizione settima, giorno settimo del mese di aprile, è un trasferimento di una serie di proprietà. Dico trasferimento perché in questo caso manca un vero e proprio prezzo, quindi sicuramente non è una compravendita. Oltretutto, se noi andiamo a cercare le indiadi che indicano la natura della transizione, non troviamo vendidit, cioè vende. Ok, oltretutto sembra qui esserci in gioco una specie di procuratore, o comunque un curatore che opera per conto di qualcun altro. Non ho mai ancora catalogato i veri e propri trasferimenti di terreno, o meglio, li ho messi al di sotto della donazione. Questa mi sembra evidente che non sia una donazione, perché le donazioni sono fatte pro gratis et amore, una cosa del genere. Questa è la formula che viene utilizzata, ce lo fa per il bene dell'altro. Ma noi comunque la identifichiamo come donazione, perché è un trasferimento senza effettivo pagamento, o anche soltanto permuta. Di conseguenza noi la cataloghiamo come donazione, e poi quando ci sarà bisogno comunque tornerò a lavorarci. Andiamo avanti. Oh, questa qui, no, 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 ci fermiamo subito. Questa qui è una compravendita. Ok, ve lo dico anche senza bisogno di leggerlo, perché, infatti faccio una brutta figura, perché questo, dedit, d-e-d-i-t, locavit, et, non ho la mia idea di che cosa significa questi, ma questo so perfettamente che cosa significa, e questa è una locazione. Qui viene scritto Pietro Petrus de Gozaldis, figlio domino Cabriè, Gabrielis, Cabrièlis, civis et abitato, civitatis Parme, che è Pietro Gozaldis, non suo padre, l'abitante Parma, Paolo, Paoli, Pro Bonem, Plazolis, Pro et Suos, Eredibus et Successoribus, ok, quindi lo fa anche per conto dei suoi eredi e successori, fa lo stesso, questo che è una proprietà che lui possiede pro allodium, come allodio, cioè piena proprietà, quindi non è una locazione, non è una sublocazione, e deve locare e, non lo so, e poi a Bernardino et Amedeo Filibus, figli di Batainis, strano questo nome qua, abitato terre de Felegara, che è un posto nella mia provincia, sicuramente non avete idea di dove sia, meglio così, e poi qui c'è la descrizione del terreno, ok, una pecia terre vineate, quindi una vigna, partibus, in, quindi in parte vineata, in intorno de, ovviamente non è partibus questo, non so il latino ragazzi, me la cavo come posso, devo studiarlo meglio, quindi sarà parte en partes, non ne ho la minima idea, in intorno de Felegara, epat episcopato, epiati, parme, pme, in loco ditto ad planas, quindi si trova questo terreno a Felegara, nel luogo detto ad planas, nella piana, chissà, chissà dove sia, ad urabusi, o annes, desi, bla bla bla, ok, qui ci sono i confini, che sono abbastanza interessanti, ma, non proprio utili in questo momento, e infine, ah, qui c'è un altro pezzo di terreno che viene dato in locazione, e da qualche parte dovrebbero esserci gli obblighi dei locatari, ed è anche del conduttore, in questo caso, noi dovremmo trovare, ad esempio, l'indicazione di un giorno, ok, che di solito viene espresso, indicando il santo che viene festeggiato, e una cifra in denaro che deve essere data al locatari, al conduttore, in questo caso, ditto locato ad septem sanctimichelis, ok, il giorno di San Michele, di settembre, del mese di settembre, perché evidentemente ci saranno più San Michele, non si capisce, a meno che, quinque vini puri, ok, probabilmente, deve, il locatario deve pagare con, un qualche tipo di misura di vino, dopo dovrò recuperare quali sono le misure dei liquidi, anche se in questo momento non ci interessano particolarmente, però è interessante vedere che il pagamento di questa locazione, sembra essere fatto non in denaro, ma in natura, è la prima locazione che io trovo, che è pagata in natura, in realtà io le altre non le ho molto studiate, ne ho studiate un paio che sono effettivamente in denaro, ma in natura non mi è ancora capitata, quindi andiamo pure avanti, 1444-04-07, c'è già uno 07, quindi mettiamo là, locazione, e poi mettiamo il link, i più attenti di voi, i più capaci di voi, sapranno perfettamente, che fare questo tipo di lavoro, con un foglio Excel, non è ottimale, e io, in vero vi dico, sono esattamente d'accordo con voi, il problema è che non sono capace di fare i database, sto imparando, sto provando a fare qualche databasino, piccolo, e più o meno ci sto capendo qualcosa, oh, ecco qui, una compravendita, quindi quando avrò capito come fare i database, ma soprattutto quando avrò finito di scrivere la tesi, mi metterò lì, e penserò di costruire un vero e proprio database, di questo tipo di informazioni, che sicuramente sarà più utilizzabile, più navigabile, anche da chi non conosce, la strusa logica di questo foglio Excel, compravendita, ok, nome di chi vende, Bernardinus, et, ah, vedete che è fatto uno sopra l'altro, ok, poi c'è questa parentesi, specie di parentesi graffa, Bernardinus, et, questo è un et, Amadeus, Amadeo, fratres, de Batanis, sembrerebbero essere quelli che abbiamo citato prima, terra vineata parte, ah, interessante, ok, Ioannes de, ah sì, ok, questo è in loco d'icto, il confine, ma a chi la vende? A Petro de Gozaldis, quindi questo Bernardino e questo Amedeo, nel giorno settimo del mese di aprile, vendono, ah, è interessante, e il pagamento è in Libras vigenti octo, quindi 28 lire, è strano però che prima lo avessero semplicemente locato, andiamo un attimo a vedere, questo lavoro non lo dovrei fare, io adesso dovrei catalogare e basta, Pietro de Gozaldis, vicino a Sancti Paolo, su successorius dei locait, è presto detto qual è il problema, quando, eccolo qui il problema, die nono, quindi la locazione da parte di Pietro de Gozaldis, avviene successivamente, ovviamente, o meglio, il nostro notario, il nostro Giovanni Palmia, crede che sia avvenuta successivamente, in realtà dopo si corregge e scrive settimo, ora, i documenti sono in serie, quindi come io ho fatto le fotografie, uno dopo l'altro, cioè l'A prima del B, ma è evidente che l'ordine temporale di questi documenti è il contrario, il B prima dell'A, è importante segnalare che queste indicazioni delle lettere non sono, come qui è perfettamente dimostrato, delle indicazioni temporali, perché non è detto appunto che i documenti, come vengono mostrati all'interno delle filze, siano necessariamente in ordine temporale, e questa ne è la chiarissima dimostrazione. Comunque sappiamo che i due fratelli, Bernardino e Amedeo, fratelli e figli di Batainis, hanno venduto a Pietro di Guzzaldis, e da Pietro di Guzzaldis, hanno poi ricevuto il diritto a utilizzare questo terreno come locazione. Questa cosa è interessante. Una cosa molto molto bella, sarebbe riuscire a capire qual è la strategia commerciale, tra barra patrimoniale, di questo Pietro di Guzzaldis, perché è uno che fa una mossa del genere, teoricamente è uno chiaramente che ha molti più soldi di questi due, questi due probabilmente non riescono a mantenere in qualche modo le loro proprietà, o devono per qualche motivo liberarsene, ma allo stesso tempo loro guadagnano qualcosa, mantenendo il diritto di utilizzarlo tramite una locazione. Quello che non abbiamo trovato prima nella locazione, e che non andremo indietro a cercare, mi dispiace, è il periodo di tempo per cui questa locazione è attiva. Ce ne preoccuperemo più avanti. Però, facendo così, selezionando i bordi, io indico che questi due documenti sono uno relazionato all'altro. Interessantissimo, andiamo avanti. Oh, qui c'è un'altra cosa molto interessante. Expletato pro questa P allungata con questo segno significa pro me Johannes de Palmia notario, notarium, quello che è. Significa che questo documento è stato utilizzato in un secondo momento e ha esaurito fondamentalmente il suo utilizzo con un'operazione fatta da Giovanni Palmia. Il concetto di espletazione del documento notarile mi sa che non esiste più, perché non sono riuscito a trovare delle informazioni recenti, a meno che io non sia molto stupido e incapace di fare le ricerche, che è possibilissimo. E quindi questo ci informa comunque che questo documento è rimasto nelle mani di Giovanni Palmia, perché se fosse espletato da qualcun altro troveremmo espletato pro me Johannes de Palmia, ma questa sarebbe la scrittura di qualcun altro e questa, perché la conosco bene, è la scrittura proprio di Giovanni Palmia. Soprattutto ci sarebbe scritto espletato pro e non ci sarebbe me, cioè da me, ma il nome dell'eventuale notario. Invece c'è scritto pro me, cioè me è medesimo fondamentalmente, me è medesimo Giovanni di Palmia. Ho degli esempi, non ve li faccio vedere. Nomine di procuratori. E lo capiamo perché c'è questa lunga, intanto questo è un elenco di persone. espletato pro me Johannes de Palmia notario, ok? Ah, ho dimenticato di annotare. Annotare che questo viene espletato, appunto per indicare che c'è una espletazione, faccio così, espletato pro me. Tra inizia a fare le proiezioni anch'io, scrivere P, e invece non lo faccio. Nomina di procuratori. E adesso vi spiego perché è una nomina di procuratori. Noi abbiamo una lunga formula, molto verbosa, già in quella che è fondamentalmente una copia a utilizzo notarile, quindi figuriamoci nel cosiddetto mundum, cioè nel documento originale. Non ho idea. Solemnibus, ordinaverunt, ordinam suos ductus quali doctonotaium, bla 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 bla, certos veros nos actores, qu quale? Legitios defensores, non lo so, cioè non capisco perché si chiama legittimo difensore, comunque, mellius validus et efficacius, eccetera, efficatus, eccetera, eccetera, e poi inizia un lunghissimo elenco di nomi di cui di solito il primo è Antonio de Zandemari, che nel 1444 dovrebbe essere uno dei consolili, o il primo console dei notai di Parma. E poi abbiamo tanti a Benedicto de Gozaldis, probabilmente parente di Pietro, Petru et Antonius Pimaris, Johanne Antonio de Rivo, Ludovico de Neviano, Antonio de Beliardis, et Antonio Borosius, omnibus cives et notaios Parme, tutti i cittadini, inteso come dotati di diretti politici, non inteso come abitanti, ovviamente, se no ci avrebbe scritto abitantes, cives et notaios Parme. Il resto, questo dovrebbe essere il motivo per cui loro sono nominati procuratori, quindi il limite della loro procura. Ci lavoreremo un altro giorno, anche perché in questo momento si vede che Giovanni Palmi aveva voglia di scrivere male. Mi piacerebbe rendere pubbliche tutte queste carte, ma la verità è che sono tutte caricate, intanto questa sembra una compravendita, vendi dite e tradi dite, lo vediamo qui, la verità è che queste carte sono tutte, queste foto sono tutte caricate su OneDrive, offerto gentilmente dall'Università di Bologna, e quindi, grazie, no, davvero, 5 tera di spazio sono più che sufficienti, probabilmente a contenerne tre o quattro di notai, e quindi non posso condividerla al di fuori dell'ambiente accademico, nel senso che serve un account dell'Università di Bologna per un account OneDrive dell'Università di Bologna. Non mi piace neanche a me questa cosa, ma troverò, vendi dite e tradi dite, compravendita, troverò il modo di renderle pubbliche in qualche altro modo, perché queste cose meritano di essere e pubbliche a cui 4-04-21-C, sarebbe interessante capire che tipo di documento ha bisogno di essere espletato. abitato a terra, si, da Tavis, una recessione, dote, prodote, et dotius donne johannes sororibus predicti jacobi, uxor, Nicolai de Mezzis, quindi questa sembra una vera e propria dote. il nome Andreolius de Mezzis, figlio di Antoni, abitato a terra di Fornovo, episcopato Parme, pro sé et suos eredes et successores fia offresis et in concordia cum ciù cum jacobo, non vedete, de Galanis, figlio Laurenzi, abitato a terra de caro cararia, di carare, episcopato di Parma, quindi non di carara, ma credo sia un posto sulla collina parmigiana che però adesso non è più, non si capisce più che posto sia se non sbaglio. recesse, processue, eredibus, eccetera, eccetera, et recepisse, dote, prodote, dotio donne johannis, ok, fondamentalmente è Andreolo de Mezzi che in concordia con jacobo galanis riceve una cifra di denaro in dote per conto di johannis sororis predicti jacobi jacobo, jacobo, questi qui, jacobo, jacobi e riceve quindi una dote la riceve il padre dello sposo Andriolus de Mezis il padre di Nicolai de Mezis che è lo sposo Uxon nel senso che johanni Giovanna è moglie di Nicolò di Nicolai di Nicola figlio Nicolai predicti Andrioli Andrioli ok quindi fondamentalmente il padre dello sposo riceve dal padre della sposa una dote questo sono sicuro che sia una dote questa cosa mi casa molto perché sarebbe interessante cercare di capire se nel resto del documento scusatemi sono completamente ok c'è un qualche tipo di vincolo a questa dote vale a dire la dote per cosa deve essere utilizzata capita spesso e volentieri questa qui è un'informazione che riprendo da François menà che però si riferiva a un periodo molto precedente a questo si riferiva al 1200 1300 dove numerosi doti vengono impegnate allo scopo di fondamentalmente avviare un'attività professionale che coinvolge sia il marito sia lo sposo che la sposa cosicché dalla formazione di una nuova famiglia poi nascono anche i mezzi per sostenere questa famiglia possono aprire una filanda possono aprire un banchetto al mercato quello che gli pare senza essere volgari e quindi sarebbe interessante dopo andare a recuperare questa dote per cercare di capire se carino il fatto che sia una cosa che si gestisce tra genitori e non tra sposi questa cosa non la sapevo o se la sapevo me la sono dimenticata però sappiamo più o meno che adesso non è esattamente così allora veniamo sapiente tegregio ah questo è interessante c'è Antonio Zandemari che compra qualcosa suo fact to tell prositens se legge romana prositens se legge romana prositentes quello che è prositens significa secondo la legge odierna secondo la legge di oggi secondo la legge comune a tutti è una formula e ovviamente non c'è nessuna legge romana parma o meglio c'è una legge che forse è percepita come romana quindi sono due persone Giovanni Zandemari e Gaspare de Serto figlio di Giovanni Jacobi quindi Giovanni Jacopo mi piace c'è questo Johannes de Zandemaris dictu Belperius Belpero figlio di Antonio ah abitante a Vico Vico de Merio Vico de Menio Episcopato di Parma terre tiere terre de Vico de Vico de Miceno non mi viene in mente in questo momento che posto potrebbe essere questo qui Gaspare dove abitante abitato civitati sparme abitato non cittadino abitato bello vicini vicini quindi quartiere di San Prospero quartiere sbagliato una vicini è più che altro più una specie di parrocchia più che un vero proprio quartiere vicini e santi prosperi prose suo fatto strano questo che non c'è eredes et successoris questa è un et eccetera questa formula è et eccetera prositensele geromana se suo ah eccolo qui se suo eredibus successoribus ad proprio et pro allodium diderunt vendiderunt tradiderunt quindi è una compravendita e compra Antonio Zandimari che è il padre di Giovanni bello cioè molto probabilmente è il padre di Giovanni eh in realtà qui ci sarebbe scritto predicti Antonio ma non è una regola cioè il predetto Antonio quello nominato qui ma la verità è che non è una regola che ci sia predicti Antonio quindi in realtà che Giovanni di Zandemari sia effettivamente il figlio di Antonio di Zandemari resta un dubbio potrebbe esserlo ma un altro elemento che mi indica che probabilmente non sono padre e figlio Antonio di Zandemari figlio di Bartoletto Bartolo Bartolino quello che è è strano che un figlio di padre non si chiami come il nonno può capitare in realtà e immagino che potrà sicuramente capitare per Antonio de Zandemaris che è una persona molto importante perché come ricordavamo è console in un certo periodo dei notai di Parma e da console dei notai di Parma probabilmente anche uno che di figli ne ha tanti perché è uno ricco detto questo la terra non ci importa interessante il prezzo Libra Squinquaginta che ci indica che probabilmente questo è un pezzo di terreno molto grosso o che vale molti soldi perché normalmente non sono così alti i prezzi dei pezzi di terreno ma noi andremo avanti e cercheremo di capirlo un'altra volta anche perché determinare la superficie di un terreno è quasi impossibile dato che noi non abbiamo nessuna indicazione effettiva della superficie ma solo dei terreni che sono confinanti quindi non so un terreno confina la proprietà della chiesa di Parma della cattedrale di Parma la proprietà di Ugo Lino Rossi eccetera eccetera e non abbiamo mai un'indicazione della superficie non c'è miglior documento con cui finire questa storia in Christi in Christi Nomen Anno An Natività Amen in Christi Nomen Amen tutto quello che fate fatelo nel nome di Dio dice Paolo Anno An Nativitate Eusdem Domine Nostro Signore credo se sapete il latino non spaccatevi il culo per favore millesimo quadrigentesimo quadrigesimo quarto 1444 indizione settima l'indizione è un gruppo di 15 anni che viene contato 1, 2, 3, 4, 5 non si capisce bene a cosa serva sono sicuro che nel 400 non lo sapevano nemmeno lo lasciamo perdere è una cosa per gli studi diplomatici die secundo mai maggio ma M-A-G-C-U-S magnificus magnifico et P-O-T-N-S potente questo questo sgobbio è una S domino signor Iulianus de Gilinis Ducalis in Parma commissario eccetera bello questo eccetera interessante e con bello intendo che è un peccato che ci sia mi piacerebbe sapere cosa ci dovrebbe essere oltre a Ducalis in Parma commissario quindi commissario ducale del Duca oddio nel 44 siamo già con gli sforza aiuto 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 panico panico no no non siamo ancora sotto gli sforza quindi siamo ancora sotto i gli sconti ok e Ducalis in Parma commissario eccetera quadran futura campane sen in Tolomeno de Fornaris vicini e santi trenta in carcere detenutum in carceri Parme quindi c'è questo Tolomeo dei Fornari abitante in vicina della vicina di Santo Dorico detenuto nel carcere di Parma voende civitas Parme ad instantia simonis de toculis seo cuius precuria sexuna e dittum simoni quindi c'è questo anche questo simone de toculis che c'entra qualcosa con Tolomeo che probabilmente o lo ha fatto ingabbiare o vuole qualcosa da questo detenuto eius non ho la minima idea di che cosa sia quella cosa qui ditto aliquepotente feri ditto Tolomeo suffici in carceris ah ecco ok fatis factum satisfactum de pro debito pro quo carceratis et cum dependibus quindi probabilmente c'è in gioco un debito poi c'è anche questo spettabile et egreggio dottore di legge domino oberto de gambarinis o gambaretis vicario spettabilis et egreggi viri dominis secundo quindi secondo de predicta sancta potestatis civitatis ah potest civitatis districtus parmi quindi c'è anche in gioco un po' d'està questo è un documento che ha libra settimi libertati libertate purtroppo non riesco ad esumere molto da questo documento se non che perché questo documento io l'ho già visto me lo ricordo nel senso che l'ho visto mentre lo fotografavo perché mi aveva colpito subito questo commissario Giuliano Ghilini i Ghilini sono una famiglia piemontese è interessante trovare questo Giuliano Ghilini commissario ducale a Parma e poi c'è questo Tolomeo de Fornari in carcere c'è probabilmente questo Simonis de Toculis che o è quello che lo ha fatto ingrabbiare o è quello che opera per conto dei detenuti all'interno del carcere di Parma sembra poi esserci un qualche tipo di debito sembra esserci qua L B T A T I libertati libertatem sembra esserci in gioco una qualche tipo di libertà sembra esserci in gioco Oberto de Gambarinis vicario del potestà di Parma anche questo di nomina ducale e quindi è un documento con un qualche tipo di valenza pubblica expletato pro Iacobini della Morettis notaio quindi probabilmente questo documento in origine perché questa mi sembra la scrittura di Giovanni Palmia in origine doveva essere un documento scritto da Iacobino della Morettis poi finito nelle mani ho utilizzato in qualche modo appunto espletato da Giovanni Palmia quindi dobbiamo fare un po' di cosette per quel documento qua allora innanzitutto è l'892 lo coloriamo di verde perché c'è un'espletazione e ci mettiamo la nota che viene espletato pro Iacobini della Morettis che è un notaio che ho già visto operare come secondo notaio in secondo luogo tutto questo accade il documento viene erogato nel maggio del 1444 non sappiamo che tipo di documento è ma sappiamo che è un documento con un qualche tipo di valenza pubblica perché una delle persone nominate qua dentro è un ufficiale pubblico oppure perché si sta trattando di materia pubblica i documenti che trattano di materia pubblica sono segnati qui in giallo in questo caso questi due sono molto interessanti perché viene citato un ufficiale ducale e la gabella del sale bello interessante da incrociare con un paio di libri che ho letto che adesso purtroppo non riesco a recuperare a mandare a memoria e da verificare se questa gabella del sale può essere meglio compresa grazie a questi due documenti dubito fortemente però mi piacerebbe 1444 0502 abbiamo detto non sappiamo che documento è ma sappiamo che è un documento pubblico quindi ci mettiamo il giallo ci dovrei mettere il rosso in realtà ma mettiamoci il giallo lo copiamo il collegamento e può essere visualizzato e ci mettiamo il link ora quando voi leggete apologia della storia ovvero il mestiere di storico di Mark Block perché vi hanno detto che è un bel libro perché vi hanno detto che è interessante perché vi hanno detto che è bello nessuno non troverete mai scritto lì dentro che il mestiere di storico è quella roba qua il mestiere di storico è molto divertente ci vuole un bel po' di tempo ci vuole un bel po' di pazienza e vi deve piacere con questo concludo abbiamo guardato poco meno di 12 13 documenti e ne abbiamo parlato per probabilmente più di mezz'ora immaginatevi quanto si potrebbe dire con 892 documenti e a trascrizione sì e tanti tanti altri documenti che mancano da essere schedati un video un po' diverso dal solito spero che vi sia piaciuto ne farò altri probabilmente perché mi diverte molto e mi aiuta a ragionare un po' di più su quelle carte qui al di là del lavoro un po' da automa che ci devo fare su ok sono le 20 direi che è ora di cenare buona giornata a tutti di